Spesso mi chiedete come fare per ridurre la cellulite. Beh, chiaramente di base occorre allenarsi e seguire una sana alimentazione, ma io non mi lascio mai scappare le mie coccole firmate FGM04. Utilizzo il fango freddo abbinato al gel CellKO. Entrambi sono due prodotti facilissimi da utilizzare e i risultati sono sicura vi sorprenderanno.